buon pomeriggio ci siete amiche e amichi benvenuti adesso oggi parleremo delle gratificazioni e della raccolta punti famosissima 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 raccolta punti vediamo un po se ci sono i nostri amici collegati eccoli che stanno arrivando tutti allora vediamo 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 aspetta che devo vedere come fare per vedere ecco qua ciao cinzia ciao gabriella ciao amore mio ciao nadia o la mia commare elisa c'è pure elisa allora comma ciao sun to salemme gersonina un bacio o bene 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 invitate e taggate taggate tutti i nostri vostri amici perché oggi parleremo di una cosa molto importante oggi non cuciniamo eh oggi non si cucina oggi si cacera ciao katia dammi il tuo numero che non ce l'ho più ok va bene poi te lo comando elisa ok allora forza 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 eccomi ecco chiara ciao chiara bene 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 invitate condividete eh il link nei gruppi così io comincio tra poco perché vi voglio ehm innanzitutto voglio gratificare tutte le persone che in questa settimana hanno vinto e in più voglio spiegare alle nuove persone che ci sono oggi dieta fai la dieta oggi e a tutte le persone che ci sono eh voglio eh spiegare come funziona la nostra meravigliosa fantastica stupenda straordinaria raccolta punti oggi dieta certo perché non si cucina ci sono arrivata ci sono arrivata ciao lisa buon pomeriggio come no non la dieta rita no alla dieta vero no no perché mannaggia non si cucina però parliamo di una cosa molto molto importante eh quindi forza 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 taggate 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 le vostre amiche ridi ridi se ti metto a dieta per davvero vai chiara dimmi tu quando avete girato tutti i link che poi ve la racconto su che poi ve la racconto su chi di voi sa della raccolta punti alzate la mano alzate la mano chi sa della raccolta punti dai 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 forza 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 ok patrizia muglia ciao ciao maria petrilli ciao maria buon pomeriggio ciao loredana benvenuta benvenuta ciao e aspettami e stai lì loredana e andreuccia tu conosci la nostra raccolta punti e vai e vai so contenta bene 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 andreuccia conosce la nostra raccolta punti aspetta un altro e cinque minuti due minuti un minuto mezzo minuto ciao gabriella ciao mariolina belotti forza 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 allora dai io intanto comincio poi man mano arrivano due minuti due minuti dice chiara due minuti e se lo dice chiara bisogna aspettare due minuti ragazzi eh non si può fare niente ok non mi muovo brava resta lì non muoverti loredana dobbiamo raccontare della raccolta punti e poi dobbiamo premiare oggi vi faccio pure gli applausi ma non gli applausi così perché è troppo capito è mono applauso faccio l'applauso proprio gigante buon poveriggio palma benvenuta mo mo devi aspettare e mo sto aspettare chiara sto aspettare mo muovete allora dai intanto comincio a spiegare alle nuove persone che cos'è mo comincio a spiegare che devi di ah ciao carlo no vabbò ci sta pure carlo iori siamo rovinati siamo rovinati va bene allora vi volevo parlare un attimino della nostra famosissima meravigliosa raccolta punti e che cos'è la raccolta punti qualcuno potrebbe pensare che la raccolta punti sia una semplice raccolta punti come quella del supermercato no invece no invece no è diversa perché al supermercato 1 i punti non sono cumulabili esempio se mi danno un punto ogni 10 euro se io spendo 15 euro quanti punti mi danno 1 e 5 euro ciao ne invece da noi è tutto cumulabile quindi è diversa due perché è diversa perché valgono sia sugli acquisti personali ma anche sugli acquisti dei nostri amici che acquistano grazie al nostro passaparola nel e che cos'è il passaparola ma se ci pensate ciao margherita benvenuta allora se ci pensate il passaparola è la cosa più potente che noi utilizziamo da quando eravamo piccoli noi quante volte abbiamo consigliato ad amici parenti vicini un ristorante un bar un negozio ma quanto è un articolo un detersivo ho provato questo detersivo a funzionare quante volte quante volte lo abbiamo fatto e pensiamoci un attimino tutte le volte che lo abbiamo fatto l'abbiamo fatto proprio col cuore perché davvero noi ci siamo trovati bene perché davvero ci è piaciuto e quindi l'abbiamo trasmesso e perché l'abbiamo fatto col cuore perché l'abbiamo sentito e quindi lo trasmettiamo ok cosa succede la nostra amica va nel negozio che noi abbiamo consigliato il negoziante guadagna ma noi non guadagniamo niente perché perché comunque l'abbiamo fatto col cuore non l'abbiamo fatto pensando a cosa ci sarebbe tornato beh con noi lo facciamo col cuore e la nostra azienda vi premia perché lo fate col cuore sei una cliente sei soddisfatta usi i nostri prodotti usi i coperchi ti hanno migliorato la qualità della vita ti sei trovata bene e che fai non lo dici e quando lo dici la tua amica vede che tu lo usi vede che tu ti trovi bene e magari decide di acquistarlo bene la nostra azienda ti gratifica con dei punti e che ci fai con i punti? ecco i punti ti prendi qualsiasi regalo della life prime della magic cooker qualsiasi regalo a tua scelta ogni 5 punti puoi avere un regalo ogni 5 punti puoi avere un regalo ciò significa che a 10 punti posso avere 2 regalo a 15 punti posso avere 3 regalo e così via all'infinito e se invece poi mi piace e voglio continuare e restare con noi venire e far parte della nostra famiglia bene lo puoi fare lo puoi fare e che cosa devi fare? le stesse cose che hai fatto fino adesso consigliare un qualcosa in cui tu credi un qualcosa in cui ti sei trovata bene ora mi dovete dire io 3 meravigliose vulcaniche patrizia complimenti 3 ne hai vinte ma sei fantastica applauso qua ci vuole l'applauso si è sentito l'applauso? ditemi se si è sentito mi prego allora ridi ridi ditemi se si è sentito l'applauso allora quindi che cosa vuol dire? se ti sei trovata bene tu lo comunichi col cuore stai facendo del bene noi diciamo sempre passiamo il favore passiamo il favore ai nostri amici ecco si è sentito? io ho 2 vulcaniche brava Lisa bravissima ecco questo mi piace grazie grazie Romina questo mi piace mi piace vedere le persone che scrivono ho vinto io ho vinto 2, ho vinto 3, ho vinto 1, io vincerò 10 va benissimo siamo felicissimi si è sentito? siamo felicissimi noi godiamo come dei ricci quando le nostre clienti si trovano bene quindi vuol dire che fanno i punti perché? perché lo utilizzano si trovano bene e lo comunico ai loro amici e quindi possiamo vincere e vediamo un attimino chi è che ha vinto questa settimana perché ogni settimana noi gratifichiamo le persone perché adesso diciamo nome e cognome di chi ha vinto ok? allora siete pronti? io mi ho detto ok e questo mi è partito il telefono devo fare come Chiara non devo dire ok ok allora vediamo un attimino vediamo adesso le persone che hanno vinto già un regalo cioè si trovano al primo step hanno fatto i primi 5 punti aprire raccolta punti è davvero molto conveniente divertente e emozionante grazie Romina per questa tua testimonianza io ho vinto una padella vulcanica è spettacolare grazie Marilena grazie bene allora adesso diciamo i nomi di chi ha vinto questa settimana ancora giustamente non hanno ritirato il regalo perché hanno appena vinto sta settimana ma lo possono già richiedere fantastico mo la dovete aprire brava Romina mo la dovete aprire allora primo step 5 punti facciamo i complimenti a Benigni Veronica complimenti Veronica sei una forza poi Dora Dogoter spero di averlo detto bene sono ciecata e dislessica perciò abbiate pazienza bravi 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 poi Francesca Mazzei complimenti Francesca ci sei? batti un colpo fatti sentire che ci sei complimenti Loredana Martinelli Lori mi hai aspettato? e adesso ti ho nominato brava Loredana Martinelli Novello Marilena complimenti complimenti a Francesca Pietro Paolo se sbaglio qualche nome ditemelo eh complimenti Francesca Rosalba Rosalba Mangialetto complimenti a Rosalba e Antonella Belluomo complimenti a tutti un applauso al primo step vai con l'applauso qua oggi mi sono superata perché sennò farlo da sola è brutto ci vuole un applauso brava Loredana brava ok adesso voglio dire un nome qua ci vuole un applauso l'ho riservato a Chiarelli Marcella che in una settimana ha raggiunto il primo e il secondo step qua io ci vuole un applauso aspetta applauso vai Marcella complimenti complimenti ma dici dici come hai fatto in una settimana a fare dieci punti sei stata bravissima vuol dire che ti trovi veramente bene allora secondo step le persone che hanno già vinto un regalo e questa settimana hanno raggiunto l'obiettivo del secondo regalo number two is magic one allora Andrea Lossi un applauso Andrea Lossi poi gli applausi facciamo alla fine grazie a tutte e in particolare a colei che mi ha portato in questa grande famiglia Carla Favaro vedete cioè Marilena Novello guarda grazie grazie per questa testimonianza perché perché è bellissimo quando le persone mi dicono grazie che mi hai fatto conoscere il magic cooker è spettacolare mi ha risolto un sacco di problemi oppure ti dicono grazie che mi hai fatto conoscere la magic cooker la life prime perché comunque mi trovo bene siamo in una grande famiglia e ho conosciuto delle persone stupende insomma è bello è bello quando le persone scrivono queste cose mi piace tanto allora avevo detto Andrea Losi secondo step Bella Era Giuseppina complimenti Giuseppina De Febis Loredana wow complimenti complimenti a De Febis Loredana e Laura Spano complimenti al secondo step applauso vado come mi diverto la prossima volta vi faccio l'alò 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 vabbè quella cosa che si fa così ragazzi sono dislessica eh che ci vuoi terzo step quindi le persone che hanno vinto il primo il secondo e il terzo regalo che questa settimana hanno conquistato il loro terzo regalo allora Jacone Rosanna complimenti a Rosanna Francesca Luciani bravissima Francesca facci sapere che ti prendimo che ti prendimo questa volta e Rossella Bitonti complimenti applauso al terzo step vai bellissimo mi piace ola ecco vi faccio la ola la ola brava Chiara grazie non mi usciva mi si era siccome mi si era incrociata la lingua va bene ci siamo ci siete non è finita qua questa settimana abbiamo anche una persona che ha conquistato il quarto step e facciamo l'applauso a Pizzolo Paola applauso vai complimenti Paola complimenti bene avete visto quante persone in questa settimana ti è piaciuto l'applauso Chiara avete visto quante persone in questa settimana hanno vinto ma perché non provarci se vi piace vincere facile è proprio facile fatevelo dire non da me non dalle consulenti ma dalle persone che hanno già provato dalle persone che stanno già facendo la loro raccolta punti adesso lo dovete scrivere tutti quelli che stanno facendo la raccolta punti e hanno avuto già alcuni regali o lo stanno per ricevere o possono adesso richiedere dovete scrivere mo lo dovete fare mo con magic cooker si vince sempre brava Antonietta è vero con magic cooker si vince sempre poi la cosa fantastica è che quando andate al supermercato a ritirare il regalo che avete fatto i punti dovete sborsare i soldi sì sì con l'applauso grazie Chiara invece con noi non solo non dovete sborsare un centesimo stavo dicendo una lira ma non c'è più quindi non dovete sborsare neanche un centesimo e in più il regalo vi arriva direttamente a casa vostra e senza spese di spedizione ma cosa volete di più dalla vita eh ma dovete fare la raccolta punti perché ma i punti come si prendono allora i punti Doriana si prendono o con l'acquisto personale ok o con l'acquisto che fanno le tue amiche a cui tu proponi il magic cooker a cui tu consigli il magic cooker io sono felicissima è chiaro Doriana se non lo chiedimi ancora ok ogni 100 euro un punto ragazzi ogni 100 euro un punto e sono cumulabili cioè se io acquisto una cosa che costa 49,90 e la volta dopo acquisto una cosa che è ancora 49,90 e poi acquisto una cosa che è ancora 50 fa cumulo tutto tutto insieme mo dovete fare la raccolta punti Romina tu ormai sei addentrata proprio in questa cosa mi piace tanto forza ragazzi ascoltate mo dovete fare Maria Rosaria Zappalà brava 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 ok adesso ho capito bene Doriana sono contentissima che ti ho spiegato bene comunque chiedi alla tua consulente ex tutte le persone nuove che sono qui oggi o che mi ascolteranno questo questo video registrato dovete chiedere alla vostra referente e quando glielo dovete chiedere mai glielo dovete chiedere va bene io quello che dovevo dire ve l'ho detto ora sta a voi se vi piace vincere fatelo ma la cosa fondamentale passate il favore fate conoscere questo nuovo sistema di cottura a tutte le vostre amiche perché quando noi consigliamo ad un'amica lo consigliamo sempre con il cuore perché ci siamo trovati bene quindi consigliate fate conoscere questo prodotto perché migliorerà la loro vita come ha migliorato la vostra e in più ci farà mangiare sano gli prolunghiamo la vita allora mo dovete fare la raccolta punti esattamente mo dovete fare aspetta che me so persa magic cooker non si può cucinare senza i coperti i magici ciao grazie Rita grazie grazie tu lo sai lei è stata dal primo giorno ha comprato i coperchi il primo giorno che ti fa i cannelloni cioè la cosa più che uno dice vabbè comincio con un risottino no i cannelloni bravissima subito ora prendi la cornetta magic cooker ti aspetta brava Romina ci abbiamo pure dei poeti bellissimo quindi mi raccomando mi raccomando aprite la raccolta punti e consigliate ai vostri amici e magic cooker ti premierà magic cooker il coperchio magico più venduto al mondo lo so va bene io vi saluto vi do appuntamento alla prossima volta vi do appuntamento anche domani pomeriggio con una diretta meravigliosa e poi sabato ci sarà la diretta degli evitati e questa volta faremo il pane gluten free non è un coperchio ma è il coperchio ma non è un coperchio ma è il coperchio magico è vero è vero bravissima quindi se avete degli amici sglutinati invitati di sabato che faremo il pane senza glutine e domani a pomeriggio ci sarà un'altra diretta straordinaria sempre con il nostro magic cooker un bacio a tutti quanti vi saluto alla Chiara bacio ciao ciao